Oggi finalmente, forse, se tutto va bene, se Bellanova entra nella cuspide di Renzi in conflitto con Conte Giove, si decide. Buongiorno signori, io sono Mr. Lull e adesso vi spiego quanto saranno blindate le nostre feste. Iniziamo, ma mi raccomando lasciate un bel like per sostenere il video e il canale. Grazie! Obiettivo? Evitare una terza e disastrosa ondata ad inizio 2021. In questi giorni assistiamo purtroppo a litigi e divisioni non solo all'interno della maggioranza, se così possiamo ancora chiamarla, ma anche nel comitato tecnico-scientifico stesso. Rigoristi, permissivisti, zona rossisti, arancionisti, insomma, da ieri notte una sintesi sembra essere stata trovata, anche se la partita è ancora aperta. Lo scenario più plausibile vede un ritorno alla zona rossa nazionale nei giorni festivi e prefestivi a partire dal 24 dicembre fino al 3 di gennaio. In pratica due mini-lockdown, dal 24 al 27 dicembre e dal 31 al 3 di gennaio. Dal 28 al 30, dal 4 al 6, sempre fermo restando il blocco alla circolazione tra regioni, che vi ricordo scatta dal prossimo lunedì 21, si dovrebbe allentare la stretta per tornare alle regole corrispondenti al colore della nostra regione, anche se c'è una frangia che chiede zona arancione anche in queste giornate di intermezzo. Vedremo! Oggi poi, nel tardo pomeriggio, ci sarà un nuovo tavolo con le regioni, l'incontro con Italia Viva, a cui seguiranno decisioni, firme, conferenza stampa e soprattutto in caso di conferma di questo doppio mini-lockdown, la previsione di ulteriori ristori per le attività più colpite. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, siete tra i rigoristi o permissivisti. Detto questo, io come al solito vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo in un prossimo video o in una prossima live. Un saluto a tutti da Mr. Lul.